io dormo con la luce accesa sogno sempre l'incidente di mamma io la sera sono quando voglio a casa non ho nessuno che mi aspetta io non ho paura di nessuno mio papà non mi abbraccia mai non mi piace fare sport le mie amiche dicono che sono grassa non basta ascoltarli bisogna capirli noi lo facciamo da oltre 25 anni scegli di stare con noi telefono azzurro dalla parte dei bambini